Ronchi è fondamentale per la regione perché lo era, se non altro, quando tutta una serie di viaggiatori approcciavano il trasporto aereo nazionale. Il viaggiatore di 20-25 anni fa non voleva partire da Venezia, non voleva partire da Ljubljana e non voleva volare con la concorrenza. L'aeroporto di Ronchi è il grande malato del turismo regionale. Nell'analisi di Juan Pablo Grando, agente di viaggio, le ragioni della crisi innanzitutto. Ronchi subisce la concorrenza di almeno altri 7-8 aeroporti nell'arco di 300-400 chilometri. C'è anche una ricetta per guarire, ma la medicina deve essere somministrata in fretta e soprattutto da mani capaci. Potrebbe avere un futuro veramente eroseo se qualcuno incominciasse a pensare, ad esempio, che gli altri aeroporti sono veramente intasati. Arrivare oggi in un aeroporto come Venezia è difficoltoso perché non ci stai. Ronchi potrebbe essere assolutamente un aeroporto, il fiore all'occhiello del frigo Venezia Giulia. Bisogna lavorarci.